Ciao a tutti bentornati sul canale di GeneticDNA e a questo nuovo gameplay di questo nuovo gioco Dishonored Lo so che questo gioco Ci sono 200 miliardi di gameplay ma ho voluto fare il mio gameplay visto che l'ho iniziato da poco Quindi andiamo Corvo, se solo ci fosse stato qualcun altro di cui fidarmi Ti avrei tenuto vicino a me Ma purtroppo non c'era alternativa E il capospia ha fatto pressioni affinché mandassi te La peste ci sta decimando e dobbiamo trovare una cura Quando tu segui mi sento in pace Emily e Dio conteremo i giorni fino al tuo ritorno Fai in fretta e torna con buone notizie Ecco qua Nei gameplay, cioè sì, nei gameplay Nei video cerco di non parlare per non farvi perdere diciamo i discorsi Quindi vediamo Ok Di questo gioco ho visto alcuni gameplay non per intero per non perdermi la sorpresa Lord Corvo deve riferire delle novità all'imperatrice Mamma mia, quanto sei brutto Tanta strada per portare cattive notizie Secondo i marinai siamo maledetti Magia nera Superstizioni Per quanto ne sappiamo c'è già la cura per la peste Forse stiamo vivendo tempi stra Allontanare la guardia del corpo dell'imperatrice per un paio di mesi Stavo dicendo ho visto alcuni gameplay di questo gioco ma Non li guardavo magari per intero per non perdermi diciamo la sorpresa Però mi è piaciuto quindi l'ho preso adesso che non costava tanto E l'ho iniziato da poco e vabbè Giocarci e registrare non è che mi cambia tantissimo Magari un po' più per fare i commenti Ciao Figo Ecco diciamo che appunto all'inizio non l'ho mai visto Ho visto diciamo dei gameplay già forse verso metà del gioco Quindi diciamo che i primi Le prime missioni saranno un po' diciamo per me nuove E le altre diciamo che vabbè Le ho già viste in parte Sì Ehi tu amico Ciao Sua maestà vi attende nel padiglione Sì Andiamo da sua maestà Chi sei tu Ciao Dimmi del tuo viaggio Ti prego C'erano le balene Le balene Aspetta Giochiamo a nascondino ora Io conto e tu ti nascondi Ah c'è tempo Mamma sta parlando con quel vecchio e cattivo capospia Ah no dai Non ho voglia di giocare a nascondino Scusa E va bene Andiamo da mamma Giocheremo un'altra volta dai Hai visto qualche mostro nei tuoi viaggi sulle altre isole La tata dice che il grande oceano ne è pieno Bentornato lord protettore Campbell state fermo Corvo bentornato a casa Ciao Mi hanno fatto girare tutte le isole in cerca di aiuto Tempo sprecato Il mio elisir può liberare la città dalla peste Ora state fermo un momento Alto sacerdote Campbell Secondo me il quadro non somiglia a Campbell Andiamo corri Vi riceverà subito Sono persone malate Non dei criminali Vostra maestà ne abbiamo già parlato Sono... Sono miei sudditi Se sarà possibile li salveremo dalla peste Tutti quanti Molto bene Non intendo discuterne più Mamma Corvo è tornato Grazie cara Lasciateci soli Come volete vostra maestà Corvo Due giorni d'anticipo Continui a sorprenderci Come sempre Ciao Non so chi sei Vaffanculo Quindi per cui Ora dobbiamo andare Seguimi capitano Lasciamoli Da sole Ok Scusate la pausetta ma Ciao Piove Piove Speravo che un'altra città Avesse già subito il contagio E conoscesse una cura È una notizia pessima Non possiamo fare nulla Vegli acchi Hanno intenzione di isolarci Aspetteranno che la peste Trasformi la città In un cimitero Tutto bene mamma Sembri triste Sì Non preoccuparti tesoro La mamma sta bene Ma Dove sono le guardie Chi le allontanate Mamma guarda Che stanno facendo sul tetto Cosa Emily Vieni qui Oh cazzo No No Aspetta Com'è che è Combattimento Ok Vieni qua Stronzo Ninja Tenendo premuto Per bloccare Vabbè Sì va bene Tanto Oh Tronzo Bastardo Vaffanculo Vabbè Tu sei Vieni qua Chi è Ma spariscono sti cosi Corvo Grazie Se tu non fossi stato qui Oh no Eh no Oddio Lasciatelo Oh cazzo No Oh merda No Porca puttana Corvo Tutto Va in pezzi Trova Trova Emily Proteggila Tu puoi farlo Sai cosa fare Promettiloc Corvo Eh Io non ho fatto niente Sì Ha ucciso L'imperatrice No 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 Sono stati ninja Che cazzo vuoi Non ho fatto niente Assurdo Sarai giustiziato Per questo Corvo Prendetelo Prendetelo Adesso un po' Che Fermo Eh Vacca la puttana Iniziamo bene Emo che succede È la tua ultima possibilità Firma la confessione Ti darò l'estrema unzione Per salvarti l'anima Ma te la do nel culo L'estrema unzione Stronzo Vaya Figlio di puttana Per il momento basta Fuori Diamogli un po' Di tempo Per Pensarci Non devo pensare A un cazzo Corvo L'imperatrice È morta Sua figlia Emily È tenuta nascosta E nessuno Saprà mai La verità Che verità Sei stato sfortunato Domani Ti giustizieremo Ma per una buona Causa A questa nazione Serve a un'autorità Forte Che guidi I deboli E qui Entriamo in gioco Noi Credimi Non c'è niente Di personale Anche se Ti hai quasi mandato A monte tutto Invece ha funzionato Eri nel posto sbagliato Al momento giusto Figlio di puttana Mi hanno incastrato Figlio di puttana Ti uccido Pena esco da qua Ok ragazzi Ci hanno Incastrato Per l'omicidio Io non ho fatto niente Però mi hanno incastrato Questo te lo manda un amico Un amico Andiamo a vedere cos'è Pane Una lettera Messaggio anonimo Questo vabbè Vabbè Poi ve lo leggete Se volete Ok Hai visto qualche branco Di ratti Di antara Ottimo Ma cerchiamo di non farci Sgamare E una spada Questo Cos'è Soldi Sì Soldi Prendiamoli Possono sempre servire Lo cazzo Devo andare Come potete vedere Questo pezzo Non l'ho fatto Veramente Quindi Cosa che è Furtività Premi Ok Oh cazzo Si tratta di corpo Quello che ha ucciso lì Sì ma Ok Ok Piano pianino Non facciamoci vedere Piano pianino E uno Che cazzo era? L'ala di isolamento È interdetta Alle squadre Di manutenzione Che non siano scordate Dall'ufficiale Della milizia L'attraversamento Deve essere concordato Con una settimana Di anticipo Qui adesso Lo facciamo Stealth Senza farci Catare Silenziosi Invisibili Porca puttana Silenziosi Invisibili Un cazzo Vaffanculo No 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 Fatto niente Figura di merda Eh sì Silenziosa Grazie a tutti c'è qualcuno qua ok quando si può salire quindi per cui ok 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 come è controllo? non ho voluto parlare di come con la tua dobbiamo sbergarcela da tui prima che lo sappi al capito niente fatti lo prenderemo e poi saluto che ne dici di condividere il tuo pasto con me stasera? ok qua ci sono ah perfetto qua c'è anche una pista ah adesso si ragiona si adesso facciamo il culo a tutti qua facciamo il culo a tutti quanti prendiamo tutto quello che possiamo prendere un po' di cose qua soldi, monete snack che cosa si via 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 cos'è quel cosa? soldi 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 cos'è quello? cos'è quello? niente ok adesso abbiamo una porta qui tracchete oh cazzo non mi ha visto anche deficiente non mi ha visto dove sono andati sti bastardi? no però aspetta un attimo io me ne vado da qua però aspetta ma che sarà riservata al solo personale assegnato all'evento e ai dignitari autorizzati dove sono sti bastardi? venite qua venite da corvo venite qui vieni qua vieni qua ciao muori stronzo ciao ciao divertente ecco vieni qua che tu vieni 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 boom ecco qua ti fotto anche la chiave no cazzo me lo sono trascinato dietro come cazzo si fa a buttarti via lo lancio via ok tu non hai più niente perfetto attenzione l'ala di isolamento è interdetta alle squadre che non siano scortate da un ufficiale della milizia l'attraversamento deve essere concordato con la settimana andiamo yard tocca porti giuuu tu 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 oh oh qui? c'è qualcosa per me? si può prendere qualcosa? soldiiii via c'è un conto di vedere i gameplay è un conto di prendere il feeling con i comandi quindi perdonatemi se non sono perfetto anche perchè la perfezione non esiste ora andiamo a vedere un po che cazzo c'è qua in giro ah che posto strano oh cazzo ops fatto niente nessuno m'ha sentito voi non avete sentito niente La persecuzione di domani sarà riservata al solo personale assegnato all'evento e ai dignitari autorizzati. E' bello che in questi giochi ti danno la freccia e io vado sempre al contrario. Cos'è? Ah, ops. Andiamo qui. Cazzo è sto posto? Ah, qua è dove l'ho legato all'inizio, sì. Vediamo se posso prendere qualcosa. Posso prendere niente? Cos'è quello? Boh. Che se ne frega? Questo? La lettera? Il rapporto del fuciore, che se ne frega? Via. Eccola. Eh, perfetto. Obiettivo completato. Quindi, ora dobbiamo usare questa cosa, penso. Questa bomba. Presumo. Soldi. Qui. Altri soldi. Ti danno tanti soldi in questo gioco. Boh. Eh, amici! Sporgersi dagli angoli. Ok, così mi sporgo dagli angoli, praticamente. Vediamo un po' come funziona. Ta-da! Ha battugliato il coltivale. Ancora no. Scusa. Volevo riferire la perdita di ieri nella caldaia. Pregatene. E inizia la ronda. Se ci fanno rapporto, siamo nei guai. Ok, questo lo facciamo stealth, però, eh. Cerchiamo di non farci sgammare da questi. Piano piano, piano piano. Cazzo, questo cazzo è di un altoparlante, beh. Culo. Vediamo dov'è l'altro. Si vede un cazzo. Sì, mi sporgo, c'è il muro. Dove cazzo è? Eccolo lì. Ssh. Piano piano. Facciamoci sgamare. Avrei voglia di ucciderti, però vaffanculo non ti voglio uccidere. Voglio farlo tutto stealth, sto pezzo. O mi faccio sgamare, porca vacca. Cazzo è passato. Attenzione. L'ala di isolamento è interdettata nel... Stato parlante qua, anima mi fa prendere di qui. Via, 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 via. Non mi vedete, non mi vedete, non mi vedete, non sono io, non sono io, porca troia, cazzo, cazzo, ce n'è uno là e uno lì, merda vacca. Ma mi sgamano e mi uccidano. Levati dai coglioni, cazzo, via, via, via. No, merda. Queste coperture che cazzo ci fanno qua? Dai, levati da lì, merdone, stronzo. Vai a mangiarti una ciambella in qualche cazzo di angolino. Bene, se n'è andato, via, via, via. Ma chi è? No, cazzo, sta tornando. Stai lì, fermo? Stai lì, fermo? No, sta tornando, merda. O mi sgama, o mi sgama. No, mi sgama quell'altro, ma porca troia. Non mi vede? Boh, perfetto. Ma porca troia. Vediamo dove sei. Accoroli, via, 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 via. Io non ho ucciso nessuna imperatrice, piantatela. Ecco di. Addio, stronzo. Screma. Attenzione, l'ala di isolamento è interdetta alle squadre di manutenzione che non siano scordate da un ufficiale della milizia. L'attraversamento è scordato con una settimana di anticipo. Silenzioso, letale. Prendiamo questo. Questo. Prendiamo tutto quello che possiamo prendere. Cioè, le prime impressioni... Beh, anche se non sono ancora andato oltre a questo... Però, ehm... Già dai gameplay che ho visto mi è piaciuto questo gioco, quindi... Però anche giocarci è... Ha un bel gameplay. Si piace. Sto uccidendo tutti. Troppo divertente. Traccate. Ok. Ciao amico, via, è uno. Uccidiamo tutti qua, chi se ne frega. Non possiamo fare un'uccisione un po' più... Oh, omicidio. Ciao. Ma va a cagare, va. Ma non rompermi. Cos'è quel coso che lampeggia? Vabbè. Lo userò poi, eh. Ok, quindi adesso dovremmo far che? Qua cosa c'è? Qua c'è un'altra leva. Serve per... Chiudere... Boh, va. Ok. Ok. Quella... Guardate che bel buco. Distrutto tutto. C'è la man... Vabbè, vaffanculo, ma... Meglio scappare da qua. Via, 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 via. Oh, adesso mi è uccido. Orca troia, aia. Via, sono ancora vivo. Oh, via. Sono ancora vivo. La 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 la. Meglio scappare da qua. Via, via, via. Raggiungiamo le fogne. Chiamate dei rinforzi e mandatevi nelle fogne. Ok ragazzi, questo primo gameplay di Dishonored finisce qua. Vi aspetto ai prossimi gameplay che usciranno sempre di venerdì. Ciao ciao a tutti da GeneticDNA. Grazie.